Sul tavolo della direzione generale dell'ASL di Teramo ha arrivato nessun caso di mobbing? Io da quando sto qui alla ASL non ho mai ricevuto una notizia di mobbing, lo apprendo oggi dai giornali, da questo articolo comparso sul messaggero, ho consultato immediatamente sia i miei organi interni, sia il responsabile del Cug, che è l'organismo preposto appunto a raccogliere le denunce da parte dei dipendenti, sia la parte dell'URP che per se potesse avere qualche notizia, entrambi mi hanno confermato che all'azienda non è pervenuta alcuna denuncia di mobbing. L'unica cosa che è accaduta negli ultimi tempi è che c'è stata una presunta richiesta di mobbing, ma non è che si è conclusa per una condanna di mobbing. Abbiamo deliberato qualche giorno fa, adesso attenderemo gli esiti, ma pare che non vado in questa direzione. Certo, non è che noi stiamo facendo i carabinieri interni ospedali, però se qualcuno ha dei problemi, in tal senso che li rappresentasse all'azienda, ci sono organismi preposti in tal senso e noi daremo tutto il supporto di quello che serve. La vicenda è stata resa nota dal sindacato degli infermieri? Certo, probabilmente il sindacato è a conoscenza, però il sindacato invece di fare degli articoli giornali, potrebbe parlare direttamente con la direzione e metterci in condizione di poter agire. Noi, anche perché con questo sindacato di cui è combattuta sulla stampa oggi la notizia, siamo in stretto contatto anche per solare tutti gli altri problemi del personale infermieristico e dell'azienda. Un infermiere su quattro sarebbe vittima di mobbing al Mazzini di Teramo? Sì, questo è il titolo che oggi ho letto e serre fatto sulla stampa di oggi. Cioè, se una notizia del genere che pone una problematica così importante, specialmente in un mondo in cui il mobbismo sta diventando una situazione molto delicata nell'ambito della scuola, e noi non sappiamo niente perché i nostri organi istituzionali preposti non hanno ricevuto mai denunce, cioè per me è un titolo allarmante. Cioè, basta fare questi allarmismi perché dopo nella gente si crea il convincimento di situazioni abbastanza, come possiamo dire, compromettenti, capito? Che cosa può pensare uno che legge a termine quattro persone, quattro infermieri, un infermiere su quattro è soggetto a mobbing? È assurdo. Diamo le notizie serie, diamo le notizie sensate, perché altrimenti si crea confusione della gente. Capitolo UCCP, avete trovato la soluzione per mantenerli tutti aperti? Abbiamo trovato la soluzione, ma io innanzitutto devo intervenire su una vicenda a monte di questa situazione. Se qualcuno pensa di fare pubblicità dicendo notizie non campanitarie, perché l'azienda di Termo non ha messo mai in discussione l'UCCP, era in discussione le modalità di gestione UCCP, ma non le modalità di chiudere o meno le UCCP. Dove le abbiamo fatte? Siamo l'unica azienda in Abruzzo, ce l'abbiamo e non vediamo le motivazioni per le quali chiuderle. Certo, le UCCP devono essere monitorate per far sì che svolgano quelle funzioni alle quali sono preposte e le svolgono in maniera adeguata per soddisfare le esigenze dei cittadini. Dopodiché dobbiamo anche trovare il metodo gestionale che più consona alle esigenze dell'azienda. Quindi noi di fatto abbiamo prorogato il regime attuale e dobbiamo vagliare entro dicembre la soluzione per far sì che questo servizio venga gestito in modi migliori e nel rispetto delle leggi.